L'odore della benzina con cui Alfred Lambert aveva ripulito il pennello dopo la verniciatura mattutina del divanetto di Vime è andata benissimo perché è veramente uno dei libri più belli, grandi sembra sempre riduttivo qualsiasi cosa si dica su questo libro nel senso che è sempre di più ha una ricchezza di descrizione è incredibile insomma è uno dei libri più belli che abbia mai letto proprio io la meraviglia è che lui prende proprio l'americano medio che è molto meno affascinante di quello dei film americani e lo disintegra vedi proprio l'approccio americano alla vita l'America l'ha completamente distrutta l'ha proprio massacrata pagina dopo pagina scientificamente anche in questa rincorsa alla ricchezza spasmodica piuttosto che il benessere piuttosto che l'attenzione ai fine settimana perfetti con gli amici il barbecue e il giardinetto che deve essere più bello degli altri cioè l'ha veramente distrutta l'america l'ha completamente massacrata leggerlo è stato bellissimo perché a parte il fatto che ti innamori di tutti i personaggi tutti ti ricorderesti a casa tutti e cinque si trasformano continuamente o in dei mostri assurdi come ogni essere umano è in grado di di trasformarsi e contemporaneamente però ti fa vedere veramente la quotidianità che può succedere ad ognuno di noi insomma in come mangiano in come vengono educati a mangiare da questo padre nel tutte in tutte le derive che prendono questi personaggi stanno delle scene esilaranti nella loro verità nuda e cruda chip si esibisce in alcune prestazioni onanistiche straordinarie denise cerca la propria identità sessuale nei modi più disparati con un marito e con una moglie che nella realtà stanno insieme e prima va con uno e poi va con l'altra si alzò a fatica raggiunse il tavolo da ping pong e si mise in ascolto di inid ma non la senti per un attore mantenere il flusso di pensiero l'intonazione comprensibile a chi ascolterà l'audolibro e rendere tutto questo chiaro non è una scrittura semplicissima è una delle cose più difficili che ho fatto nella mia vita nel senso che è vero che è una scrittura impeccabile assolutamente altissima e veramente inattaccabile però è scritto per essere letto è stata contemporaneamente un'esperienza enorme proprio perché essendo difficilissima se ne esci vivo ne esci sicuramente con le spalle un po più grandi insomma grazie a tutti